Ma lo sapevi che l'Inter è stata la prima squadra in grado di battere la Juventus allo Juventus Stadium? In panchina c'erano Alessio che sostituiva Conte squalificato nella Juventus e Stramaccioni sulla panchina dell'Inter. In campo, con la maglia nerazzurra, Andanovic in porta, Ranocchia, Samuel e Guangisus in difesa. Zanetti, Gargano, Cambiasso e Nagatomo a centrocampo. Attacco a tre con Palacio, Milito e Cassano. Pronti via, la Juve va in vantaggio con un gol di Vidal che però nasce da un fuorigioco di Asamoah non fischiato. Poi nel secondo tempo è un tango nerazzurro. Doppietta di Milito e firma nel finale di Palacio. 3-1 Inter. Era il 3 novembre del 2012 e la Juventus per la prima volta veniva battuta nel suo nuovo Juventus Stadium inaugurato l'8 settembre 2011. Per altre storie sull'Inter e tutte le notizie iscriviti subito al nostro canale.